Questa stronza, ora te lo faccio vedere io se non c'è problema. Eh, scusami, Leopoldo. Pronto, chi è? Chi è? Ah, chi è? Sono amore di tua vita, il torsetto siberiano, sono il fidanzato di una grande zoccola. Ecco chi sono, anzi, ex fidanzato. Ho sentito tutto, Doina, eh. E se stasera tu rientri a casa, io ti butto giù dalle scale, hai capito? Amore, ma chi dice? Ci deve essere stata una interferenza. No, non ci devi provare con me, non ci devi provare, ti ha detto male, ma ti è andata proprio male male. Pensa che io l'hai trombato con uno che c'è al telefono sotto controllo e chi lo controlla? Io. No, ti sbagli, io sono qui a fare la badante a vecchia. Badare la vecchia, badare la vecchia, tu badi solo ai soldi. Sentite, prego, Doina, ho sentito tutto, Doina, eh. Amore, cerca di capire, io l'ho fatto per mamma, per comprare pompa di benzina. Ti prego, Doina, ti prego, almeno non me parlà de pompe, hai capito?